Ha richiamato grande partecipazione l'incontro organizzato dal Lions Club a Cireale sul tema «I territori si aggregano, città metropolitane o liberi consorsi di comuni». Relatori d'eccezione, quali il sindaco di Catania Enzo Bianco, il docente universitario Saro Faraci, la sociologa Margherita Matalone, l'avvocato Nando Gambino, quest'ultimo portavoce del libero consorzio Ionico e Tenneo. «Non c'è un modello migliore di un altro», ha sostenuto la sociologa Margherita Matalone, «ma si devono focalizzare i bisogni dei territori e l'identità di una città, solo dopo si potrà scegliere». «E' un falso problema scegliere questo o quello», ha aggiunto nel suo intervento il docente Saro Faraci, quando invece è importante capire quale configurazione territoriale bisogna avere per essere competitivi. Chiaramente contrario alla città metropolitana, il portavoce del libero consorzio, l'avvocato Nando Gambino. «Verebbero a spostarsi i centri decisionali anche imprenditoriali a Catania, onde per cui l'abbiamo visto anche con la soppressione della sezione distaccata del Tribunale, che c'è stata una maggiore desertificazione della città. Ma a Cereale, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista immateriale, non economico, è una città con una propria dignità, una propria identità che intende conservare». «Non bisogna perdere alcuna identità», ha replicato il sindaco di Catania Enzo Bianco. «Nel resto dell'Italia, in questo momento, città delle stesse dimensioni dell'area metropolitana di Catania si sono già costituite. Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Napoli. C'è già al lavoro una realtà che attrae investimenti, che compete nello scenario internazionale. Io penso che la stessa cosa debba avvenire nelle città siciliane. Se vogliamo essere competitivi nel rispetto dell'identità di ciascuno di noi, senza annessioni, senza fare perdita di identità, dobbiamo fare squadre insieme. Io addirittura penso che la città metropolitana da sola non basta. Penso all'allargare i confini al distretto della Cina sudorientale, a fare squadre insieme con Taormina, a fare squadre insieme con Siracusa, con Ragusa, con Gela, 2 milioni e 200 mila abitanti che competono nella realtà dello scenario nazionale e internazionale, senza annessioni, ma con la voglia di lavorare insieme». Numerosi rappresentanti istituzionali presenti, tra questi l'onorevole Basilio Catanoso, il deputato regionale Angela Foti, i sindaci di ACI Reale, ACI Buonaccorsi, Roberto Barbagallo e Mario Ali, il vice sindaco di ACI Sant'Antonio, Nuccio Raneri. «La legge, come dire, al palo, aspetta da circa sette mesi una chiarezza che di fatto non c'è stata, perché nella legge non ci sono iscritte le competenze che la futura città metropolitana avrà. Una cosa è andare ad un'ipotesi di lavoro che riguarda la legge regionale, la numero 7 del 2013. Un'altra cosa è l'ipotesi di lavoro della legge del Rio. Il beneficio del libero consorzio sicuramente è che il raggruppamento dei comuni, in questo caso parlo di un raggruppamento importante che potrebbe essere il raggruppamento ionico etneo che va da ACI Reale fino a Taormina con l'area pedemontana. Diciamo che è un raggruppamento che ha tantissime peculiarità differenti ma anche tantissime cose in comune». Soddisfatto, alla fine, il presidente del Lions Club ACI Reale, Silvio Cavallari. «Difatti, grande partecipazione, a volte quasi inaspettata. Significa che questo argomento trattato stasera è veramente importante e sentito dalla cittadinanza. Come mi è capitato di dire in altre interviste, questo è un argomento di cui si parla molto ma che probabilmente in pochi sappiamo esattamente di che cosa si tratta realmente».